La proposta di Arsenal Mittal va respinta totalmente. Il nuovo piano di Arsenal Mittal sa di ricatto e non garantisce comunque né tutela dei posti di lavoro, né tutela della salute e del territorio. Così l'assessore regionale allo sviluppo economico Mino Borracino. La proposta va respinta totalmente non solo perché prevede 6.000 esuberi, già di per sé un fatto inaccettabile, ma soprattutto poiché è inaccettabile che un governo possa accogliere una proposta al ribasso sulla pelle di lavoro e salute. Dopo che vi è già un contratto firmato che Mittal non sta rispettando, ritengo oggi come non mai sia necessario che il governo imponga una nuova aia che contenga la valutazione del rischio e dell'impatto sanitario per definire quali siano gli standard tecnologici e si tuteli l'ambiente in maniera adeguata. Così l'assessore Borracino che conclude la sua nota dicendo che credo che ogni iniziativa di mobilitazione per ricevere risposte definitive debba essere sostenuta ed io ed il mio partito lo faremo. Grazie a tutti.